Sembra più un museo che una casa. Io mi ci sentirei a disagio. Non ti piacciono le antichità? Antichità è sinonimo di roba di seconda mano. Non voglio cose che hanno già usato altri. Non sono spazzolini da denti. Guardate intorno. Ci sono pezzi di altissimo artigianato. E probabilmente valgono una fortuna. E questo è il punto. Che me ne faccio di un tavolino su cui non posso mettere i piedi o farci sgocciolare la schiuma della birra? Che donna di classe. Io sono di classe. Sei una cavernicola di classe. Oh, e le smorfiose con cui ti pavoneggiavi sono di classe? Dopo mesi di lontananza, sempre in viaggio, col mio complesso. Dimostri la tua classe. Guarda un po'. È una domanda per entrare in terapia nella migliore clinica oncologica di Los Angeles. Aveva il cancro. Renner era messo male. Dovevano impiantargli un buffer chemioterapico sperimentale nel cervello dopo la rimozione di una metastasi tumorale. Cancro al cervello. Spiega alla comparsa dei tedeschi. Temevano che vendesse il libretto sapendo che poteva morire. E col ricavato avrebbe assicurato al suo compagno un roseo futuro. Beh, aveva già un roseo futuro. Forse voleva darlo via per evitare qualunque futuro problema a Sander. Direi che ha aspettato troppo. Ha detto che non ci sono i cani. Cani con le scarpe? Perché no? Ho visto uno spettacolo con dei cani che ballavano il tip-tap. Ssss. Mani in alto, venvi lì! Polizia di Los Angeles! Sicurezza nazionale! S.I.S. Mostrate i documenti! Che ci fate qui? Il caso è nostro. Sebastian Renner era un cittadino straniero con informazioni che compromettono la sicurezza nazionale. Il caso è nostro. Evitiamo controversie. In fondo non siamo avversari. Dovremmo collaborare. Avete trovato qualcosa? Sei impazzita? Sono della sicurezza nazionale. Sono sicura che non è vero. Ah sì? Ma che bisogno c'era di dargli un calcio nei... Dix, credo che siano agenti stranieri. Tu credi? E questo ti autorizza a spappolargli gli attributi? A volte non ti capisco proprio. Ma come puoi...